Il Paradisi delle Signore, trame fino al 7 dicembre, Matilde decide di partire. Matilde Frigerio si rifiuta di perdonare Vittorio e Tancredi e decide di lasciare Milano per cambiare temporaneamente la sua vita. Questa la sinossi principale della puntata del Paradisi delle Donne che andrà in onda dal 4 al 7 dicembre. La telenovela non andrà in onda nella settimana di venerdì 8 dicembre, poiché in questo periodo Rai 1 manderà in onda una trasmissione dedicata al giorno dell'Immacolata. Vittorio soffre per Matilde e Agata sarà molto contenta della prima lezione del corso di disegno. Quando la giovane sente da Roberto il motivo per cui la sua famiglia si è opposta alla sua ammissione, chiede spiegazioni a Concetta. Il direttore Tancredi rivuole a tutti i costi Matilde, ma il direttore Vittorio sarà estremamente addolorato per quanto accaduto. D'altronde Frigerio non ha intenzione di perdonarli. Nel frattempo, Umberto Guarneri cerca di aiutare Tancredi chiedendo alla sua amica Flora di parlare in modo sensato con Matilde. Anche Santerasmo si rivolge alla donna, ma lei rifiuta di aiutarlo. Flora finisce poi per fare un'importante proposta d'affari a Irene. Oltapresa una decisione in merito, il giovane Cipriani capirà chi c'è veramente dietro questa offerta. Vittorio invia a Matilde un regalo originale e le dichiara il suo amore. La donna però ha già deciso di partire per il Giappone e ha raccontato dell'accaduto all'amica Flora, pregandola di non dirlo a nessuno. Adisce però a Conti, il quale non rispetta la volontà dell'amica e decide di compiere un'azione inaspettata. Nel frattempo, Alfredo sospetta che Leonardo Crespi sia interessato alla sua ragazza Irene. Viti ha intenzione di fare la proposta a Maria. Nel frattempo Vito decide di fare la proposta a Maria e chiede aiuto allo staff del Paradiso per trasformare la sua idea in realtà. Matteo Portelli è distrutto al pensiero di perdere per sempre il suo stilista, ma si offre di aiutare l'amantia per non destare sospetti. Marcello incontra accidentalmente una ragazza che ha appena conosciuto e iniziano a litigare. Dopo averla vista per la seconda volta, il ragazzo lo racconterà a Salvo. Marcello alla fine scopre di rosa, ma non sa se dirlo ad Armando. Penseresti che Salvo avesse capito chi era.